Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con Tonino a fare una mod review perché abbiamo aperto appena la Ud. E va bene, siamo qui con una mod speciale che tutti reputano che è essere impossibile da fare il survival e noi li smentiamo. Però non ce la rifainete, quindi siamo fottuti. Oh, no, mi dissocio dalle paroline. E va bene, mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio. Poi comunque, siamo qui con una mod review, in questa mod review vi recenseremo l'avarizzo a non cadere. E lì sotto c'è un buco perché ho provato una cosa. E non sta bella. Ho fatto un buco nero, piccolo. Dopo vi facciamo vedere. Spoiler! 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 Guarda per terra, per terra. Ok, siamo belli. Allora, siamo tutti belli. In questa mod tutti dicono che sia impossibile da costare. Perché ora, ora vi faremo vedere. Apri l'inventario. Mamma mia, c'è alcun pianto. Apri l'inventario. Bello. Ecco qua. Cioè, abbiamo... No, ma le taglie sono troppo poche. Premi R su questo. Aspetta, aspetta. Premi R su questo. Vai su questo. E con questo si crafta questo, però per craftare questo... Ma va. Questa non l'hanno calcolata. Vabbè. Andiamo qua e ci abbiamo i cristall. E questo non l'hanno calcolata, quel piccolo. Ma tu ti c'è nel pack. No, no, l'ho fatto io. L'ho fatto io. Non giocate mai il pacchetto a Omni Factory. Allora, pig. Ci dobbiamo prendere più cavie. No, perché... I porci. E tu porco. E vanno i manini d'osso. Allora, intanto possiamo far vedere la prima... Che questa spada, dicono... Aspetta un momentino. Intanto la mod. Benvenuti. Aspetta un momentino. Aspetta, lasciando like e iscrizione. Non ho campanellino. È giusto. No, ma... Vengo con questa spada qua. Schoolfire. Vengo con questa spada qua. Che vi schoolfire o a casa. È vi schoolfire o a casa. Che dobbiamo arrivare almeno a 25 like per questa prima motoreview. È molto giusto. Arriveremo. Allora. Se vi piace il progetto... Perché apri la grego? È perché mi sono abito a zoomare. Gellotti, vai. Allora. Se vi piace il progetto, quindi arrivaremo a 25 like, porteremo altre mode di review. Magari delle mode che ci suggeriremo. Però, aspettate. Ci sono problemi in corso? Non lo so. Non lo so. Non lo so se ci sono problemi in corso. Non lo so. Spoiler! Spoiler! Eh, spoiler! No, no, spoileriamo. Va bene. Bene, iniziamo. Partiamo dalle cose bascice. Allora, la mod. Intanto la mod che credo tutti abbiano capito da questa spada qua. Si chiama... Aspettate. Non è un anno. Avarizia. E si scrive Avarizia. Dagli la cheat mod. Togliamo. E purtroppo... Clicca qua sopra. Purtroppo questo non era previsto. Questo qua potrei averlo fatto io. Però... Non era previsto. Che... Aspettaci, c'è un crafting con... Oh, vero. Amorpla. What a freak, bro? Ok, queste cose siamo nell'ora in diretta perché non avevamo controllato più tanto. E... Bellissimo. Allora... Vabbè, comunque... Il pack di questa mod... Si chiama Omni Factory. Se lo volete scaricare fate subito l'armatura all'infinito perché c'avete tutto. Vi lasceremo ovviamente... Ovviamente... Un blocco di terra. Vi lasceremo il link in descrizione dell'Avarizia. Se me lo ricordo. AAAAAAAH! E' una volta. Ecco, 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 ecco. Vabbè, metti l'armatura all'infinito, tanti siamo immortali con quella. E poi c'abbiamo la sottolazione. Problemi di percorso. Questa armatura non è più figa di tutte perché c'è quella del Dr. Konig che... Che Tonino dice che è una armatura che incombra. Sì, perché esce una cosa... Solo nel metto, solo nel metto. Perché della Night Vision è molto... No, però poi si vede... Eh, ma è opposo. Eh, ho capito, però... Ma c'è un villager, però... Allora, questa spada... Non so se la sapete tutti. Forse Tonino lo sa. Cosa fa? Da fuoco. No. Non lo so. Cioè, oltre a te... Proviamo. Non da fuoco. Non da fuoco. Prendi uno scheletro. E' giallo! Vabbè, da prima... Prima leggi le descrizioni... Allora... Prendi un scheletro e scorci il Tem... Qualcosa. Tem Black. Praticamente, quando uccidi uno scheletro con questa spada, ti dà la testa dello scheletro del Wheeler. Uno scheletro normale. Molto carino, allora. Vai, piglialo. E facciamo vedere che è vero e non è clickbait. Forse clickbait? Non ho provato questa cosa. Potremmo essere clickbaitati, eh. Mi sto affidando alle mie traduzioni da... No, amore. È amore. Non era un clickbait. Clickbaiteremo con questa testa dello scheletro qua. Che scheletro è? Che scheletro è? Che scheletro... Ok, allora. Vabbè, chiste ne. Cioè, abbiamo pure il Powerade Spawner, il Renderai o cose. Ragazzi, allora... Allora, per chi è interessato al modpack, magari lo potremo mettere in descrizione. Però dobbiamo arrivare prima a 25... Uno era previsto? Imprevisti. Imprevisti da un po' Non era abbastanza previsto. Ok, ritorniamo al nostro discorso. Scusate. Oltre 300 FPS. Allora, intanto andiamo a... No, spoiler, spoiler. No, spoiler, troppo spoiler. Intanto vediamo... No, no, dobbiamo vedere quei crafting lì. Ecco, bravo. Allora, dobbiamo vedere quei... Aspettiamo, devo girare. Ok. Allora, prima grafting dobbiamo far vedere questo. Questo qua, che si gra... Vabbè. Vabbè, mettendo il grafting in tebelo, credo... Non credo che c'è... Iniziate a Minecraft, sapete il crafting della crafting table. Non credo, ce l'ha bisogno di mettere il crafting della crafting table. Infatti. Non l'ho messo. Vabbè, comunque... Ah, e ragazzi... Per craftare una compressed crafting table... Puglia la compressed crafting table, faccio vedere un piccolo easter egg. Però è una crafting table più grande, eh. È una crafting table normale. È normale. Quindi è uno spreco di crafting table. Vabbè, chi se ne frega. E la dobbiamo rompere all'infinito. E vabbè, la facciamo a mano perché noi siamo vanilli. No, siamo molto modati. Sì. E poi, mettendo a nome di queste... Voglio dire un attimo una cosa. Voglio dire una cosa. Io, per fare tutto questo posto, per fare il laboratorio delle mod... Ci abbiamo messo più tempo di fare la mod review. Ci abbiamo messo più tempo di fare la mod review. E con i problemi di porre. E quindi, mettendo il nome di queste crafting table... Spoiler. Mettendo 9 di queste crafting table double compressed, ci fai una double compressed crafting table. Aspetta, uscirà con 9 crafting table... Una compressed crafting table. Questa è qua, questa è qua. Noi abbiamo preso quelle decoration, però. Però sono fatte male quelle. E siamo... E ti esce la compressed crafting table. Con 9 crafting table... Alla fine saranno, tipo, qualche stack di legno per fare una di quelle. Ah, abbiamo dimenticato il crafting table. E con il crystal matrix. E con una di quelle... E circondata con il crystal matrix. Che facciamo vedere subito come si fa? R. Bravo. Che si fa con 2 nether star. E il diamond last. Che si fa molto facilmente. Facilmente. Facilmente, vabbè. Vabbè, in realtà questo fa... Vabbè, con questa modback ci metti 50 minuti. Dai. 50 minuti è pure poco. Uff. Solo MK ci riesce. Allora. E quindi questo qua, prendi l'extreme. L'extreme crafting. No, sta là, ma ci metto mezz'ora. Sta là. E... Ecco, problemini. No, quasi... Ecco, bravo. Ma è qui. E qua si possono graffare tutte le cose. Possiamo vedere tutti i crafting spoiler. E la zanzara. Allora, intanto, con il nostro aiuto della nostra Wither Skeleton School, tu sarai la mascotte di questo video. Ehi. Ehi, porco, ragazzi, 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 ragazzi. Ricordo, lasciate like e rubo il canale a Tonino. Se volete, se... Questa Wither School qua. Quella che volete in alto a sinistra. Sì, proprio quella. Nella vai là. Potrà diventare... La mascotte del canale. La mascotte... La mascotte... Dele motore più. Tutto giorno. Magno. Vai a sto buon comando. Vabbè, ma c'è la ferro lampo molto... Sì, vabbè. Potrebbe diventare... La mascotte. La mascotte di questa serie. Se sarà una serie. Speriamo di sì. Speriamo di sì. O forse no. Beh, allora... Adesso credo che possiamo iniziare a far vedere... Un po' di crafting. Primo, ci vediamo... Partiamo dai basici. Neutron Collector. Collector. Che sta qui da formare da tre ore. Eh sì, da qua. Allora, queste qua, praticamente sono le pile di neutronio. Il neutronio è l'ingotto. Allora, adesso vi facciamo vedere. Con queste pile di neutronio... Con nove... Con nove... Aspetta, cos'è questo? Shhh. Quelle là sono cose che non ci interessano. Con le pile di neutronio... Eh... Quelle sono le pile di neutronio. Praticamente... Con nove di queste messe in una crafting table normale... Tirano. ...uscirà una... Neutronium Nuggets. Con il Neutronium Nuggets... Si fanno le Neutronium Nuggets. Con... Si fanno le Neutronium Nuggets. Si fanno le Neutronium Nuggets. Cosa si fa la mossa? Potete fare? Eh... Si. Un po' tutto. Un po' tutta la mossa. Anche solo il panel. Beh, allora partiamo dal... Dal... Allora questo... Neutronium Compressor. Adesso vi spiego subito. Questo praticamente tu... Non può fare. Non ho detto di non entrare. Ciao. 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 Ma stiamo... No, no, no. Allora... Ragazzi... Non sapremo mai se stiamo registrando... Il Neutronium Compressor... Praticamente serve. Qua voi mettete... Le blocchi. Dei blocchi... Tipo... Il blocco di Labislassulo. Un totto di blocchi. Ne lo dovete mettere 5.000 più o meno. Intorno ai 5.000. No, 3.000. 3.000. Guarda qua. Non guardiamo più c'è. 3.000. 3.000 blocchi di Labislassulo. Le mette un totto di blocchi per ottenere la Singularity. Una Singularity. Allora questa Singularity... Messa insieme. Vi facciamo vedere cosa servono. Mettendo tutte queste cose insieme. Più tutte queste cose insieme. Il blocco di Steel e il blocco di Dark Steel l'ha cambiato il crafting. Non mi ricordo se era così. Vi esce un'infinitica a lista che sarà molto decisiva. Perché non potete fare nulla. Invece no. Perché non vi servirà solo per fare 5 crafting. Però di un... Però sono i crafting più belli. No, però sì. Allora, no. Non è vero. Non potete fare nulla. Perché per un lingotto servono un botto di quelle. Quelle. Ce ne servono 20. Però in questo pack c'è un crafting... Segreto. Non siamo arrivati ancora in quella parte di video. Dei crafting. Qua c'è l'infinity helmet. Praticamente questo infinity helmet dona la night vision. Full set di questo. Eterna. Mentre gli stiponetti danno la velocità di Sonic. Dona la night vision eterna. Praticamente voi starete così sempre a night vision. Night vision. Sua. Poi. Tu va. Mi sta l'infinity breastplate. Che... Mi fa volare. Non vi ha un botto di protezione. E vi fa volare. Però c'è... Speramente due volte spazio. Potrete volare con queste... E si vi apriranno queste... Aline un po' bagate. Aline un po' bagate da dietro. Però comunque potrete volare. Ah e raga dopo mi faccio vedere un easter egg. Però alla fine del video. Quale? Quella armaz... Eh eh. Se me... Eh eh. Oltre a quello. Allora poi ci stanno gli infinity legrins. Che danno protezione più della... Cioè splitta. Vabbè. Poi ci stanno. E gli stipuletti che ti fanno correre. Cioè e ti danno... Ti siamo prote... E ti fanno saltare come... E ti fanno... E ti danno... E ti uccidono. Sì. Sono mortali quelle cose. Cioè abbiamo una legionazione altissima perché... Ok. È messo in set completo. Messo in set completo. Biii... Bung. Siamo immuni ai danni. Immuni ai danni ma... Nel senso immuni ai danni. Eh veramente. In tutti i sensi. In tutti i sensi. Proprio tutti. Ma proprio tutti i sensi. Slash. Due slash perché... Kill. Ecco. Kill ed il tonino. Carino. 4444. Io sono benissimo e benissimo. Posso pure spammarlo. Fede di te. Sì. Non ci stiene lungo. L'unico modo per uccidere... Una persona con questa armatura... Non uccidere. Ma fargli del donno. O sono dei boss supremi. Oppure... E... 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 Il prossimo oggetto. Andremo a vedere. E se... Ed è... C'è un po' di un uccidere. Ed è... La Sword of the Cosmos. Che uccide un giocatore in creativa. Che... Uccide un giocatore in creativa. Tutto. Ora purtroppo noi iniziamo il server. Cavie! Uccide un giocatore in creativa. E letteralmente... Lo potrei... Adesso con i maiali sarà facile. Guarda. Vi facciamo... Eh sì. Adesso. Vi facciamo vedere una piccola cosina. Vi faccio vedere un attimo una cosa ragazzi. Andiamo nel land. Aspetta, aspetta. No, no, no. Non andiamo nel land. Sì, sì. Andiamo nel land. Non andiamo nel land. Dopo andiamo nel land. Vi faccio vedere una cosa. Allora. Vi faccio vedere una cosita. Adesso io vado in... Game Mode Creative. Allora. Prendiamo. So... 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 Yes. Leader... Ok. Ah. Sì, ma non è l'unico boss. Eh, praticamente. Con questo. Intanto non prenderemo danni. Però... Con l'armatura. Con l'armatura, ovviamente. E poi... Appena... Vabbè, ora si deve caricare. Appena caricherà. Facciamo pure vedere... Quanto è che c'ha? I cuoricini? C'era 150. Ma... Ma ne la vedo 200. Vabbè, due ne sono... E vi da alcune cose... Oh, no. Si è stremato. No, 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 no. No. O sciscia. Ma... Quell'oggetto non... Mi è nuovo. Non lo conosco. Ok, ragazzi. Adesso avete... Avete la prova che non ammazza solo i maiali. Ok, ragazzi. Questo video è finito. Siamo venuti qua. Non è finito. No, non è finito. È perché dobbiamo fare qui degli easter egg. Eh, manca un bordello di roba. Manca... Il... Il word breve. Ops. Con incidenti... Non abbiamo preparato tutto. Sì, dobbiamo vedere che sopra... Ok. Allora... In questo caso, però, mettiti l'armatura. Mettiti l'armatura. Lo consiglio. Allora. Andiamo così. Shift, word, breaker. Voi fate shift, word, breaker. Allora, intanto... Non più tutto. Funziona da tutto. È un multitudine. Tutto, non senso, tutto. E shift, shift, più testo, destro. Diventa un martello. Venta un picco martello. Ci dice... Dite... Io doverò ammazzare i player che mi vogliono ammazzare, no. Oltre alla lag... Si è buggato. Ecco, si è buggato. Perché di solito dovrebbe dare una palla... Con tutti i oggetti dentro, però. Sì, però... Le mod si bugano. E in più, fa un'altra cosa. E sempre... Ecco. Dovrebbe uscire questo. Ora piazza un maiale. Ora c'è... Piazza un maiale. Maialo! Picchialo col martello. Il laccio dei maiali. Ecco. Potete fare le sfide con gli amici? Ti lascio il maiale più largo! Su non vince. 3, 2, 1... Giovanni! Boom! Vediamo. Ha vinto Franceschio! Però ci sta... Non è Giovanni. Giuralli! Giuralli? Giuralli? E poi c'è il figlio. Figlio di Giuralli? C'è il Giuralli. Ciao Giovanni Junior. Giovanni... No, figlio di Giuralli. Giuralli Junior. Giuralli! No, non uccidere. Boom! Baby, baby! Oh, me l'opposo. Oh, maiali è va via? Io l'opposo, maiali è va. Ma è morto. Ecco qua. È morto. Questo è il modo per lanciare. È morto prima. Nel cosmo! Sbung! Ciao, porco. Ditto. Vabbè, dai, possiamo oltrepassare... Dobbiamo fare questo in questa puntata. Sì, oggi faremo le cazzate. Dobbiamo buttare la cobblestone. Signore, dito. Ci mi dissocio! Ho detto la parola in un po' del mio abile. Eh, sito viola, link in descrizione, seguitemi. Cof, 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 youtube, non mi può andare in un mio segno. Amici, mi manca malissimo. È colpa mia? Forse. Perché hai fatto lo screen? Vabbè. Vabbè, cof, cof, cof. Vabbè, poi ci stanza la nature sun. Vabbè, questo qua taglia gli alberi in 5 secondi. Invece l'arco, faccio bordello, spacco, mangello, mondello. Fa una pioggia di frecce. Fa una strum. Se prende un... Maiale. C'è uno scammato, benissimo. Uno scammare in video. Vabbè, ci stanno le pale e le zappo, non c'è ne frega niente. Questi qua invece sono il resto. I vari oggetti di voleneste pello. Che è quella cosa che fa i buchi. Allora, oggi, visto che siamo arrivati alla fine del video, poi la divideremo in un'altra parte che farà Jakobowski? Ne ha Tripanovski. Ehm... Ne ha con 004. Arrivederci da questo video. Arrivederci ragazzi. Siamo morti. Con questo si uccidono il drago. E così finirà... Il video. Il video! Non è vero. Siamo un gravi. Fale della vita. Ava. Ava. Avanzato. Avanz... Avanz... Videos. Sì, rune des perle. Il video finirà... E' in tappo con er!